L'economia collaborativa è un modello economico basato sulla condivisione di risorse, servizi e competenze tra individui o organizzazioni attraverso piattaforme online. Questo modello offre molte opportunità sia per i consumatori che per i fornitori di servizi, ma presenta anche alcune sfide da affrontare. Le opportunità dell'economia collaborativa sono molteplici. In primo luogo, permette di utilizzare in modo più efficiente le risorse esistenti. Ad esempio, piattaforme di car sharing consentono di ridurre il numero di auto in circolazione, riducendo così l'inquinamento e la congestione del traffico. Inoltre, l'economia collaborativa offre nuove opportunità di guadagno per i fornitori di servizi. Le persone possono monetizzare le proprie competenze e risorse attraverso la condivisione di alloggi, auto, abilità o qualsiasi altro bene o servizio posseduto. Inoltre, l'economia collaborativa favorisce la creazione di comunità e l'interazione sociale. Le piattaforme online permettono alle persone di connettersi e condividere esperienze, promuovendo così la condivisione di conoscenze e la collaborazione. Tuttavia, ci sono anche alcune sfide legate all'economia collaborativa. Una delle principali è la regolamentazione. Piché molti dei servizi offerti nell'economia collaborativa sfidano le norme tradizionali, è necessario trovare un equilibrio tra la promozione dell'innovazione e la protezione dei consumatori. Ad esempio, nel caso degli alloggi in affitto tramite piattaforme come Airbnb, è importante garantire la sicurezza degli ospiti e il rispetto delle norme locali. Un'altra sfida è rappresentata dalla concorrenza sleale. Molti fornitori di servizi tradizionali si sentono minacciati dalla concorrenza dell'economia collaborativa, che spesso opera in una zona grigia della regolamentazione. È quindi importante stabilire regole e norme chiare per garantire una sana concorrenza e proteggere tutti i soggetti coinvolti. Infine, c'è anche il rischio di una crescente disuguaglianza economica. Sebbene l'economia collaborativa offra opportunità di guadagno per molti, potrebbe anche creare una divisione tra coloro che possono partecipare attivamente e coloro che non possono. Ad esempio, coloro che non dispongono di risorse o competenze specifiche potrebbero essere esclusi dal trarre vantaggio da questo modello. In conclusione, l'economia collaborativa offre molte opportunità di efficienza e guadagno, ma richiede una regolamentazione adeguata per affrontare le sfide legate alla sicurezza e alla concorrenza. È importante trovare un equilibrio che consenta di sfruttare appieno i vantaggi di questo modello economico, senza trascurare la protezione dei consumatori e la promozione di una distribuzione equa dei benefici. Grazie a tutti.